Quarta giornata di Serie A, Lazio contro Verona Vediamo come va, i ragazzi oggi sono vestiti con la third kit, con la maglia numero 3 E Lazio subito spinge, fortissima Allora, all'Olimpico il Verona riuscirà a fare gol, riuscirà a fare qualcosa, lo vedremo a breve C'è una formazione esotica ragazzi, perché molti dei nostri sono infortunati Tanto la Lazio è già davanti, follia Lazio possesso palla, ci prova, Gendusi sempre lì Bella Ianna che lo butta giù, nessun fallo dice l'arbitro Oggi c'è un po' di gente esotica che gioca, abbiamo il mio bro Dani Silva col 21, c'è Castanos col 20 Abbiamo un po' di cambi nel centro campo principalmente, perché Duda, Suslov, Serdar sono KO Super palla per la Lazio, bravo Dani Silva ovunque Dia tira Dia subito che fa gol Al quinto minuto, guardalo Baroni come ha cucinato sta Lazio Mannaggia lui, mannaggia veramente Che palle, oh sta Lazio, ragazzi subito in vantaggio, bondia Casper Eh, mutato giù Eh sì, dà lì il fallo, è fallo La Lazio continua a fermare Tankstand perché sanno che è una macchina da guerra Bello, ma sto velo Casper, let's go, Casper subito, subito così, subito gol, grande Casper La difesa della Lazio era tipo, ma bro, ma cosa, cioè è passata così in mezzo a tutti Esotico l'Olimpico due gol così, nei primi otto minuti Allora siamo al quattordicesimo, una super palla in arrivo ma Coppola è lì a difesa Castanos, lancio lungo, arruiniente C'era già Provedel, le Zaccagni in copertura eroico Castanos non riesce a prendergli la palla Madonna Ma che tiro ha fatto qua Rovella? Rovella è impazzito Ha tirato una piotta per la porta, meno male che Montipo è santo e l'ha parata stavolta 1-1 comunque ragazzi, al diciottesimo Beh, esotico, è Tankstand Ce l'ho pure al fantacalcio, in uno dei miei due fantacalcio ce l'ho pure Quindi, daje E Ciaccio nell'altro O tutte e due, non lo so, non me lo ricordo Andate su, andate su, Coppola Lancio lungo, in mezzo Casper non ci arrivava Dani, Dani per Arrui Arrui, dietro per Darko Cioè dietro, avanti per Darko Lazovic in mezzo, niente da fare Palla Provedel Rovella, lancio lungo Castellanos No Coppola Mamma mia Bravo Pavel Mamma mia il Castellanos qua Taranil 18 da Lazio pronta a fare il gollino Meno male non è successo Lancia, Zaccagni Ma porca miseria, ma porca Che palle Oh Ma come ha preso la palla, così, saltando Il piede l'ha fatto così Così? Boh, incredibile Tanto, bellissimo Il 26esimo Castellanos da solo Per Casper Siamo da soli Non c'è nessuno In mezzo Non ci arriva Se ci arrivava Era fatta Era un altro gol Porca miseria Castellanos Ceri Dani Silva Ha buttato giù Grande Bravo Dani Fatti dare la palla Eh dai La presa L'ha buttato giù Cazzo Non lo toccare a Daniel Non lo toccare 34esimo Calcio d'angolo 2 a 1 La Lazio Vediamo Vediamo che fa Bravo Coppola Che l'hai tirato fuori Altro fallo Al 43esimo Per la Lazio È sempre fatto da Rui Oh ragazzi Comunque ragazzi Ricordiamo che oggi Al Verona Mancano 4 titolari Che sono Duda Suslov Che hanno preso Come dicevano i commentatori Il virus FIFA Cioè quando vai a giocare Con la tua nazionale Torni E sei distrutto Quindi hai il virus FIFA C'è dare KO Fresi indisponibile Abbiamo perso i 4 4 top giocatori Palla qua Per Darko Darko lancio lungo Lancio lungo per Ciacciua Ciacciua niente Rincorso da Il difensore della Lazio Cade a terra E perde la scarpa Scarpa E spara Parastinchi Tutto ha perso Ma non se l'è neanche messa La scarpa Ciacciua Ciacciua è senza scarpa È con metà scarpa fuori Primo tempo 2 a 1 Per la Lazio Il Verona mi piace Anche se siamo sotto Un gol Mi sta piacendo molto Secondo tempo è iniziato Sempre all'Olimpico 2 a 1 Non ci sono cambi Quindi vediamo come va E daie Daie Forza Verona Che daie Forza Verona Non è basta Forza Butei Nell'Uk Intanto la spara via Perché la Lazio era pericolosa Arrui che difende palla Dani Silva che passa Moschera Di nuovo danni Danni in fascia Per Ciacciua Moschera inizia con le falcate Palla per Moschera Bravo in mezzo Dai che c'è No ma c'è Rolazovic C'è Rolazovic Ah no Fuori gioco Che palle Fuori gioco Montipò la para due volte Montipò ha parato tutto Eh Gendusi l'ha buttato giù Gendusi l'ha buttato giù Dai 71esimo Mancano 19 minuti Per pareggiarla Se non vincerla Peccato Moschera Era un bel passaggio Cioè io l'avevo capito Casper No quello è Marco Marco Davide Faraoni Io ovunque In mezzo Tiro Ciacciua Ciacciua Cazzo Eh sì Dai Madonna Guarda cosa gli ha fatto Zaccagni Ma da lì giallo Cazzo Fuori 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 Mamma mia Zaccagni Cosa ti sei mangiato Godo 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 tantissimo Qui è Alidiu O Ciacciua Che ha sbagliato il passaggio Mi sa Ciacciua L'ha tirata troppo indietro E l'ha regalata La palla L'ha regalata tantissimo Dani Cazzo Dani Era perfetta Moschera Perché non l'hai presa I Dani Cioè Dani 1 L'ha capita Dani 2 Non Non l'ha capita No Troppo lunga Troppo lunga Il 29 Non mi è piaciuto Come è giocato È entrato malissimo Oggi Belayane Belayane invece È un demone Veloce ragazzi Non fermiamoci in difesa Su 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 Anche Zanetti La sta chiamando Di andare su Ma boh Io Prima fischi tutto Adesso non fischi un cazzo Incredibile Questo arbitro Che Palle Che fastidio Raga Che fastidio Una gara che secondo me Potevamo tranquillamente Portarci a casa il pareggio La Serie A Finisce con L'Ellas Che non è più Nella top Per l'Europa Ma siamo settimi Comunque Va bene così Siamo comunque Sopra L'Atalanta Sopra Milan Sopra La Fiorentina Sopra Roma Sopra Bologna Va bene così Va bene così Peccato Sarebbe stato bello Vincerla Per essere lì vicini Vicini con i nostri rivali Cioè i ragazzi del Napoli Però vabbè Va così ragazzi Finita Ci vediamo Venerdì Allo stadio Verona Contro Torino E Ci sarò anch'io Ma non sarò da solo Sarò insieme A uno Che tipo Torino Facciamo delle cose carine Quindi ci vediamo allo stadio Allo stadio